termine la registrazione che entrambe hanno vinto meno male per l'Alessandria e purtroppo per la Juve da interisti e allora vi salutiamo ciao da MM8 e da Claudio ciao a tutti allora prima di tutto iscrizione al canale dai che stiamo andando bene grazie a tutti quelli che si iscriveranno e che attiveranno la campanella per non perdersi mai nessuna notifica del canale, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su Facebook di seguire anche la mia playlist di Spotify e di ascoltare Deadly Radio tutto come sempre qui in descrizione allora Inter batte Sassuolo in rimonta 1-2 adesso ne parliamo, cosa possiamo dire? allora cosa possiamo dire? prima cosa che abbiamo vinto che è la cosa più importante poi possiamo dire c'è stato un po' di episodi una partita bella da tutte e due le parti hanno giocato bene ha iniziato bene l'Inter però al sesto già De Frel impegna Andanovic con una strepitosa parata e Andanovic ha dovuto farne di parati in questa partita al ventesimo rigore per il Sassuolo un fallo non cercato non voluto di Skriniar va bene Berardi tira e segna il problema poi era che il Sassuolo continuava a spingere e ha messo in difficoltà l'Inter l'episodio cruciale del primo tempo è stato nel recupero a fine primo tempo non mi ricordo se era De Vrij sì De Vrij fa un passaggio troppo corto per il portiere il giocatore del Sassuolo prende il pallone esce Andanovic dall'area c'è sto contrasto allora quando si è parlato del rosso per Andanovic sì ma ha fatto bene l'arbitro non perché sono interista perché da tifoso del Sassuolo mi sarei incavolato però se si guarda bene l'immagine davanti il giocatore del Sassuolo che non mi ricordo chi era calcia il pallone dopodiché si lancia su Andanovic che era già addirittura di schiena neanche lo guardava perché gli è passato davanti ma era già di schiena con le braccia alzate persino si vede proprio di fronte si vede bene che il giocatore del Sassuolo si va a buttare addosso alla schiena di Andanovic prendendosi anche poi un colpo col gomito attaccato al corpo un colpo in faccia ma non gli l'ha dato Andanovic ce l'ha preso lui ce l'ha cercato si è cercato proprio lui difatti rigore non dato giustamente ripeto è rosso anche non dato giustamente però no rigore era fuori aria rosso volevo dire rosso non dato perché era fuori aria era uscito Andanovic c'era uscito dall'aria per contrastare il giocatore del Sassuolo quindi forse è stato fallo ci sarebbe stata l'espulsione però assolutamente no mi spiace per i tifosi del Sassuolo ma uno obiettivo lo vede si vede bene di fronte e dice le cose come stanno insomma ecco e niente secondo tempo uguale nonostante che si stava perdendo si stava perdendo il Sassuolo attaccava parte bene meglio di noi sì 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 andando al 53esimo salva poi ci sono stati i cambi quattro cambi praticamente contemporaneamente tra cui Geko Geko che peronti via è entrato peronti via tre secondi ha fatto il buono sì infatti il suo classico gol di testa e si pareggia si pareggia al 77esimo rigore per l'Inter è un rigore indiscutibile boh non si è lamentato nessuno c'era il dubbio se era iniziato fuori area o dentro l'area poi si viene lentamente dentro l'area buon punto rigore tira Lautaro segna 2 a 1 finito vinto perfetto torniamo a più 6 torniamo a più 6 dai Gobbi e bene procediamo il nostro campionato e domani speriamo negli altri nerazzurri e domani si tifa di nuovo nerazzurri eh sì facciano il loro dovere contro i cugini eh sì 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 ma ce la possono fare ce la possono fare sì dai anche se giocano lì a Milano però no 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 non giocano non ho capito il perché ma sia noi che no giocano a Bergamo sì non so il perché poi giocheremo tutti a tempo a Milano mancherà Gosens nell'Atlanta che si è infortunato non ho capito per quanto tempo mancherà domani sicuramente non ci sarà che sicuramente è uno dei titolari però speriamo che comunque ce la facciano comunque i nerazzurri di Bergamo a sconfiggere a battere i cugini nostri vedremo ne parleremo sicuramente domani sera prima però alle 7 e mezza party mix estate 2004 e domani sera appunto verso quest'ora post partita di Atalanta Milan bene noi vi salutiamo ciao da MM8 e da Claudio ciao a tutti